Ci troviamo allo stand Jost, siamo con Andrea Boni che è responsabile post vendita, ma siamo soprattutto in un luogo particolare. Ci troviamo proprio nel corner assistenza e post vendita. In questo corner praticamente vogliamo mostrare ai trasportatori e ancora di più alle officine qualche trick e qualche componente specifico dei nostri prodotti. Abbiamo portato una sale, una ralla e un sollevatore e qua mostriamo come riparare e quali sono i limiti di usura di queste componenti. Siamo con Edoardo Crotti, responsabile commerciale. Cosa stiamo vedendo in questo momento? Allora qua stiamo vedendo il Kingpin Finder che in poche parole è l'integrazione da telecamera all'interno di una ralla perno che permette appunto all'autista di aver visualizzato, monitorato sul proprio dashboard l'avvicinamento del trattore al semirimorchio in modo tale che non ci sia il rischio di falsi agganciamenti che purtroppo oggi giorno sono a rischio sempre più. Ancora con Andrea Boni, cosa stiamo vedendo adesso? Allora adesso stiamo vedendo il nostro nuovo sistema KKS nell'ultima versione, applicabile a posteriori sui veicoli attuali in parco mezzi. È focalizzato sulla sicurezza in quanto consente un aggancio automatizzato della ralla perno con il semirimorchio. Tutto viene monitorato attraverso tre sensori e l'autista ha sotto controllo tutta la situazione dell'aggancio. Ha un comfort ovviamente estremo perché impedisce all'autista di salire sulla passerella, i turbi, le spirali vengono collegati attraverso questo plug che connette i 15 poli, i 7 poli e i due cavi dell'aria, più a degli extra per eventuali multimedia. Grazie.